Buonasera, benvenuti anche alla pagina sportiva che apriamo con il basket con la extra pistoia che domenica torna in campo. Torna in campo la extra pistoia dopo le Final 8 e la pausa per le nazionali. Domenica alle 18.15 arriva Tortona, formazione ambiziosa e che da alcuni anni è ai vertici del basket nazionale. La formazione di coach Walter De Raffaele, che a fine dicembre ha sostituito Marco Ramondino sulla panchina piemontese, viene da un momento estremamente positivo anche grazie agli innesti di Colbert Ross e Ismael Camagate. Tortona viene da quattro vittorie consecutive ed una sconfitta di un solo punto patita a Milano ed è una delle squadre più in forma del campionato. All'andata finì 97 a 100 per i Biancorossi che giocarono una delle più belle partite dell'anno. Sicuramente è una squadra molto diversa da come l'abbiamo incontrata all'andata, sia perché con il nuovo allenatore riescono a esprimere un gioco più veloce, in contropiede, e quindi con l'arrivo anche di Rossi e di Camagate da Milano sono una squadra diversa, sono una squadra che obiettivamente è in una buona striscia e sta riuscendo a portare buone cose a livello di gioco per tutta la durata da quando è arrivato il nuovo allenatore. Il Palacarrara intanto si preannuncia quasi sold out, con soli 400 biglietti disponibili a tre giorni dal match. Un risultato utile permetterebbe agli uomini di Brienza di fare un passo quasi decisivo verso la salvezza e chissà raggiungere in classifica proprio Tortona con lo sconto diretto a favore per sognare qualcosa di più grande. Non ci pensiamo tanto, vogliamo vincere domenica con Tortona e poi si guarderà. Del calcio parleremo ampiamente nel giovedì sport alle 21 con Gianna Benesperia e Alberto Cambuli e subito dopo tiro libero, un focus questa settimana con la Gemma e coach Marco Derre proprio per la Serie B di basket. Gemma che giocherà domenica alle ore 18 al Pallaterme contro Piombino mentre è stato spostato l'orario, è stato posticipato l'orario della sfida tra Desio e Fabo Montecatini sabato sera alle ore 21. Una bella notizia per la scherma, scherma Pistoia che antibanca torna sul tetto d'Europa grazie al proprio alfiere Fabio Mastromarino. Lo spadista pistoiese infatti ha conquistato il titolo europeo Under 20 a squadre nella rassegna continentale in corso di svolgimento a Napoli bissando l'oro conquistato anche a livello di Under 17 un paio di stagioni fa. Dopo il quinto posto nell'individuale è arrivato infatti il successo con il quartetto composto dai lombardi Nicolò del Contrasto e Jacopo Rizzi e dal romagnolo Matteo Galassi nella finale contro la Germania vinta per 45 a 40 a metà marzo. La scherma tornerà sulle pedale della nostra provincia con la prova interregionale Under 14 che vedrà oltre 400 ragazzi impegnati al Pallaterme di Montecatini e purtroppo dalla Valdinievole un lutto. Oggi si è tenuto il funerale di Nada Romano morta martedì scorso nel giorno del suo 94esimo compleanno. Nada in verità Ilona Guarnieri era considerata la nonna del basket anche perché faceva parte di una famiglia che ha dato tutto alla pallacanestro basta ricordare il marito Rodolfo, la figlia Rita e il figlio Raffaele scomparso prematuramente all'età di 61 anni i nipoti Riccardo, Roberto e Alice. Nada era tuttora presidente del mini basket Montecatini un abbraccio alla figlia Rita e a tutta la famiglia e anche il mondo del golf della Valdinievole e non solo il lutto per la prematura scomparsa di Elena Marchetti 59 anni per diverse stagioni direttrice del Montecatini Golf Club Elena Marchetti strappata via alla vita da un mare incurabile aveva lasciato l'incarico qualche anno fa e chiudiamo con una notizia di atletica nell'ultimo weekend un pugno di atleti della Silvano Fedi ha preso parte con profitto a tre gare toscane Stefano Bonsangue, Sergio Gelli secondo di categoria, Alessio Querce e Lorenzo Fedi hanno completato in bellezza la suggestiva Terre di Siena Ultramarathon li vediamo nella foto 50 km con partenza ed arrivo da piazza del campo alla scarpinata ugnanese invece Emanuele Decaria si è classificato 15esimo assoluto mentre Luca Mungai è arrivato 12esimo assoluto nella Corri Seano per lo sport è tutto, vi lascio alle ultimissime con Maurizio Tintori buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti